Un accordo tra lo studentato internazionale di Rondine e la provincia di Sassari, un messaggio importante di pace e di gioventù. Il Presidente Vacari ci parli un po' di questa iniziativa tra il Viero e Sassari. Mi pare che si sono incontrate due terre, due esperienze che hanno in comune la cultura antica dell'amicizia, dove questa parola ha davvero un grande valore. Qui in Sardegna si viene a riscoprire continuamente un'antica tradizione con segni meravigliosi come quelli della festa di San Giovanni, radicati in tutto il territorio. Direi che la Sardegna in qualche modo è stata preservata da una sorta di inaridimento della cultura dell'amicizia. a Rondine perché si parte dal polo opposto, dalla inimicizia, dai nemici che si incontrano e che accettano la sfida che si possa diventare amici e non continuare ad essere nemici come la storia a volte sembra consegnare ai giovani che sono incolpevoli. Le signore testimoniano purtroppo un gravissimo episodio, parlo della nostra storia perché ci abituiamo a vederla nei telegiornali e nei pochi giornali che la raccontano, però fa parte di un'Europa allargata. La tragedia è della scuola di Beslan, dove sono state testimoni di un massacro per una guerra che continua, sebbene se ne parli poco appunto tra la Russia della Cecenia. Vorrei che loro raccontino qualcosa senza la parte nostra invadere, perché è una esperienza drammatica. In 2004, 1 settembre, ho scoprato i miei figli, i figli, i figli, in scuola. Il primo settembre del 2004 ho preso i miei figli e i miei nipoti e siamo andati verso la scuola Questa è la mia nipote Allora di solito il primo settembre è un giorno di festa nelle scuole e iniziano alle 10 ma questa festa è iniziata alle 9 e noi non abbiamo capito perché Allora di solito la scuola, la scuola, la scuola, la scuola Allora di solito, tutti i strani, tutti i strani, tutti i strani Sono già in maschi, con automati Quando iniziato la festa, sono passati circa un'ora e ho notato che da tutte le parti sono iniziati ad entrare delle persone mascherate con i fucili e ho subito capito che cosa era. Ho iniziato subito ad urlare a tutti per dirgli di Andarevia, però nel stesso tempo non vedevo la mia nipote. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ci hanno presi tutti come ostaggi e ci hanno portati dentro la scuola. Io ero tra le ultime che sono entrati nella scuola, ero con mio nipote piccolino, l'ho messo sulla finestra e gli ho detto nella lingua ossetta per non far capire ai terroristi perché secondo noi erano in città e gli ho detto in lingua ossetta di saltare dalla finestra e scopare. E ora mi ha detto, sì, mamma mia, io gli ho detto, per riprygno. E loro stanno dormire in la scuola e stanno portare in la scuola. Quando siamo arrivati in la scuola, loro stanno portare, la scuola e le persone chiamate, che la operazione è stata finita bene, come le chiedono. Ci siamo arrivati in la scuola, e questa città, la scuola, la scuola, ci sono molto scoperta, e la scuola, che il suo cuore, si chiamano in la scuola, che lo sovrappano in la scuola, che lo sovrappano in la scuola, a me ha detto, che il suo cuore, si è scoperto, che la scuola in un po' di più, e mi ha detto, mi ha detto, che la scuola in un po' di più, che il suo terreno, ci sono due mesi anni, e mi dice che noi abbiamo visto la seconda parte dei terroristi che portavano la gente dall'altra parte della scuolina quindi ci hanno portati tutti quanti in una grande stanza dove tutta la gente era in panico, urlavano, nessuno stava calmo c'era un uomo che cercava di calmare tutti quanti, il suo cognome era Betrosov aveva due figli in questa scuolina proprio perché lui cercava di calmare tutti quanti l'hanno ammazzato e poi quando l'hanno ammazzato abbiamo capito che bisogna stare zitti Dopo un'esperienza così terribile, vissuta in prima persona la vostra gente crede ancora in un processo di pace magari attraverso anche Tamara, le sue esperienze nel giornalismo nel portare un messaggio diverso nel portare un'esperienza dopo questa tragedia, la vostra stagione, la vostra stagione 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 prima di quando si fuori da scuola. Dopo che si è morto e si è avuto un storm, abbiamo visto una foto del sport. Si chiama Tamara, lei è la sorella di questa piccola ragazza che aveva 12 anni. Come vedete questa è la foto prima del terratto e questa è la foto dopo del terratto che hanno trovato sulla rete. Pratuzione? Per quanto riguarda il terratto per il terratto Per quanto riguarda la pace tra i nostri popoli tra i nostri popoli il popolo di Beslan e quelli che hanno fatto questo terratto io posso dire che come avrete visto questo è stato il terratto più grande del ventunesimo secolo e dopo questo non è facile dimenticare e non è facile smettere di odiare quelli che l'hanno fatto però noi abbiamo visto il risultato dell'odio come vedete nelle foto questo è il risultato dell'odio quindi noi abbiamo capito che bisogna ammazzare questo odio dentro noi stessi. cosa riguarda non si dovete andare a andare non si dovete andare a farlo quando si facendo qualcosa non dovete stare a questo perché è come un foglio che si dovete fare e che si avrete le temi le temi le temi le temi se riguarda si vedete il risultato che il risultato l'esplosione il risultato Il suo смesso non è insolvento, e non è pacciato il loro ima, come amore e nienafi. E bisogna pensare che a questi amici, che quando gli altri, in realtà, i loro, per il loro, i 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 loro. Io non voglio di questo, ma prima cosa è stato molto difficile, c'era molta nienavizia, c'era molta agressia, ma poi, quando il tempo non si tratta, si può sglazare alcune ombre, tu fai capire che nienavizia non è necessario per farvi più dolori. Non mi ricordo. Allora, dice, faccio un riassunto, praticamente dice che noi abbiamo imparato di non vendicare quelle persone che hanno fatto questa cosa terribile con le nostre sorelle, le nostre figlie, eccetera, perché se anche guardiamo le foto di questi bambini, i loro sorrisi, non viene a pensare della vendetta o dell'odio, perché sono delle cose contraddittorie tra loro stessi. e quindi noi stiamo cercando di portare questo messaggio di speranza e di pace in tutto il mondo. Io vorrei chiudere, se possibile, con un segnale positivo, nonostante queste tragedie, questi racconti. e magari chiedono al signor Adveri, Manuel Adveri che si occupa di Savile Children e il signor Vacari, quanto possono contare i generazioni più giovani nei codici e nei linguaggi più universali, quindi liberati dall'influenza invece interna delle proprie famiglie che le hanno vissute, e di una storia che è difficile da dimenticare e da perdonare. I giovani non possono contare su nessuno, i giovani devono contare su se stessi, cioè non abbiamo dato un grazie a quelle persone per le future generazioni, noi le stiamo dando in questo momento, quindi devono essere loro a prendere questo compito importante per il futuro e cominciare a lavorare per il futuro perché mi sembra chiaro che noi come generazione passata abbiamo fatto ben poco, quel poco che facciamo lo facciamo con grande forza. Con Rondi ormai ci conosciamo da moltissimi anni, il progetto che citavi è un progetto creato dalla società civile israeliana, non creato dai governi, creato da persone normali, creato in questo caso da me, ed è un progetto che avendo capito che i bambini palestinesi non possono essere curati negli ospedali palestinesi perché mancano le strutture, perché mancano i medici specializzati, abbiamo deciso di farli venire in Israele e di curarli. 8500 bambini palestinesi sono stati salvati e curati in ospedali israeliani. Dobbiamo abituarci alla concretezza, il mondo occidentale è un mondo che è abituato a lamentarsi continuamente, a dire il mondo va male, le cose non funzionano e ci sono queste grandi tragedie, ma la possibilità di cambiare la tragedia, nel mio caso la mia personale tragedia è stata la morte di un figlio molto giovane, soldato ucciso in Libano durante la guerra con Libano. Potevo avere due scelte, la prima era quella di incattivirmi, disperarmi, piangere, e la seconda era di cominciare a fare qualcosa, però non bisogna arrivare alle tragedie per cominciare a fare, bisogna cominciare molto bene. Io vi ringrazio da parte di tutti noi per un ricordo, un messaggio, soprattutto una volontà di guardare sempre oltre il nostro naso e la nostra terra che è con emozione, ve lo dico. È molto accogliente. È molto bella. E infatti penso che un po' di rondini verranno in futuro. Invadeteci. In accordo da cui siamo partiti. C'è l'invito esplicito a fare il primo incontro delle rondini d'oro, che saranno allora i primi cento giovani con cretezza, diceva Manuela, che sono tornati nei loro paesi per testimoniare che non è vero che siamo condannati a vivere male in tragedia, nell'odio, ma si può cambiare. Questi giovani che hanno cambiato la loro vita si raduneranno per la prima volta proprio qua, nella provincia di Sassari, ad Alghero. Pensiamo che sia una festa che sarà estesa sicuramente alle famiglie, perché è vero che i giovani hanno la loro responsabilità, ma anche le famiglie possono fare qualcosa. Quindi grazie. Grazie a voi.